E' crollato nel pomeriggio di martedì un tratto di mura medievale della cinta murale di San Gimignano, borgo in provincia di Siena dichiarato patrimonio UNESCO nel 1990. La cittadina conta poco più di 7000 abitanti, ma riceve la visita di circa 3 milioni di turisti ogni anno. Per fortuna non si è fatto male nessuno, tuttavia la notizia ha fatto rumore in Italia e anche all'estero. Ad ora tutti gli elementi convergono sulla pesantezza del terreno a monte e resa ancora più spingente dalle piogge e dalla neve che nel mese di marzo è caduta abbondante sul nostro territorio e quindi con una dinamica particolarmente legata a questi fenomeni di dissesto idraulico. E' fortunatamente il crollato è avvenuto a qualche decina di metri da un'abitazione che non è stata fortunatamente interessata e quindi nel dramma abbiamo avuto anche fortuna che nessuno si è fatto male e non ci sono stati danni a persone o cose. Un patrimonio così esteso, una cittantera che è un monumento, non può essere lasciata solo alla buona volontà e alle risorse poche fra l'altro che un comune, seppur solido come il nostro, può mettere a disposizione. Noi interverremo, avevamo già messo 1 milione e 200 mila Euro per recupero e manutenzione e per la ripulitura dei camminamenti che si aggiungeva nei 600 mila Euro del comune, quindi abbiamo già questa disponibilità. Oggi proclameremo lo stato d'emergenza, se ci sarà bisogno faremo una verifica ora in comune, metteremo altre risorse. La sovrintendenza ha dato la disponibilità ad un intervento di prima urgenza di 300 mila Euro, quindi faremo quello che deve essere fatto, come abbiamo fatto d'altra parte a Volterra nel 2014-2015, lì mettemmo 3 milioni addirittura come Regione Toscana e un milione lo mise il governo. Come abbiamo trattato Volterra, tratteremo anche San Gimignano. Più in generale che dire, che ci vuole più attenzione agli scoli e ai percolamenti, perché adesso facciamo un consumo d'acqua che poi piano piano, se non è ben canalizzato, finisce per corrodere le fondamenta delle mura, finisce per finire sulle mura e qualche volta si provocano questi danni. L'Italia è il paese in cui i beni patrimonio dell'UNESCO sono i più alti in assoluto. Noi pensiamo che vadano tutelati, così come va tutelato il patrimonio artistico e culturale della nostra Italia e soprattutto della nostra regione, che ne ha un'incidenza particolarmente elevata. Il problema sta nella scarsità di risorse messa a disposizione, soprattutto dai governi precedenti. In particolar modo il MIBAC ha finanziato nell'ultima legge di bilancio importanti risorse, ma chiaramente non bastano perché stiamo sempre a intervenire nell'emergenza, purtroppo, quando invece bisognerebbe agire per la messa in sicurezza sia del territorio dal rischio idrogeologico, ma in particolar modo anche per i beni artistici. Noi abbiamo vissuto una crisi importante nel settore dell'edilizia e non solo, ma anche nel settore dell'archeologia e del restauro. Pensiamo invece che queste professionalità vadano rivalutate, riqualificate perché non vadano perse e perché siano utilizzate per il recupero dei nostri beni artistici e del nostro patrimonio. Noi chiediamo che ci siano degli investimenti mirati e strutturali, proprio per valorizzare quanto di più bello abbiamo e mantenerlo affinché non vada perduto. Chiediamo un monitoraggio continuo della situazione e dello Stato dei beni affinché si possa intervenire prima dell'emergenza e degli interventi per la messa in sicurezza del territorio. Perché è chiaro che anche in questo caso, ma non è il solo, poi valuteranno quando saranno fatte le opportune indagini sulle motivazioni del crollo, che in questo caso probabilmente l'acqua è stata una delle cause che ha determinato il verificarsi dell'evento.